La lingua latina con i secoli è scomparsa o ha lasciato traccia nella radice di tante parole italiane. È vero comunque che il passato sopravvive soprattutto nelle zone rurali, anche nella lingua. E così nel dialetto campano troviamo sporta o sportone, cessa di diversa dimensione da sportula, mappina, strofinaccio o mappata, fagotto contenente alimenti o altro, da mappa. Ma troviamo addirittura delle parole latine che sono sopravvissute nella loro forma e significato originario. Sarcina. Questa parola, nella lingua latina, aveva il significato di carico, peso. Essa indicava il bagaglio che si portava dietro il legionario romano ed era portata in spalla tramite una borsa da viaggio, l'Oculus, a sua volta appesa a due legni a forma di croce o tì, furca. All'interno della sarcina c'era tutto ciò che era necessario quotidianamente al legionario. Razioni di cibo, borracce, acciarini, coltelli e armi, oltre che coperte ed effetti personali. Il tutto aveva un peso, armi escluse, di circa 18 chili. Da quinto curzio rufo, agmen nec turba, nec sarcinis pregrave, armata non appesantita né dalla folla degli accompagnatori né dai bagagli. In senso metaforico, sarcina indicava peso morale. Come in Seneca, animus gravi sarcina, pressus explicari cupit. L'animo gravato di un pesante carico desidera liberarsene. Nel dialetto campano, sarcina indica una pesante fascina che le donne, soprattutto nel passato, trasportavano dalla montagna. Da sarcina, sarcinello, fascina di minore dimensione e peso, destinato soprattutto ai forni a legna, ma molto in uso nella tradizione delle feste di vari paesi della Campania, per mettere su il focarone di Sant'Antonio il 17 gennaio, o il focarone di Santo Stefano a dicembre. Avrebbero lo scopo magico di riscaldare la terra e favorire così il ritorno della primavera. E così, dal latino al dialetto campano, da sarcina a sarcina non è cambiato molto.